giorno dottore claudio saraceno da benessere ipnosi soluzione oggi risponderò ad una signora che mi ha detto dottore io ho problemi a parlare quasi quasi sono impossibilitata a parlare le ho provate tutte con guru bla bla guru fuffa fuffa senza riuscire a risolvere la mia impossibilità nel parlare il mio problema che mi sembra quasi quasi impossibile da risolvere cosa posso fare con l'improsi vera e professionale ne ha chiesto sta signora bene con l'improsi vera e professionale può risolvere il problema della sentirsi impossibilità per parlare perché una forza superiore la sua volontà che si chiama immaginazione le impedisce di parlare ora bisogna parlare al subcosciente con l'improsi vera e professionale per sbloccarla e farla parlare liberamente finché non succede ciò purtroppo rimarrà bloccata fino alla morte fino alle vite futura e non è un modo di dire ragazzi per così sia da presso un professionista dell'improsi vera e professionale che probabilmente già trattato casi del genere e inizi una sessione questo problema si risolve da una massima 10 sessioni di pronosti vera e professionale oppure se non ha voglia di girare cappelle può scrivermi e poi iniziare con l'auto ipnosi da solo la sostanzetta può scrivere ai prologi associati che oggi la libro punti e io compatibilmente con gli impegni con i miei tempi perché sono spesso all'estero ti aiuterò a risolvere questo problema dandogli dei consigli preziosissimi sull'ipnosi e su questo problema che è l'impossibilità a parlare visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi al dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologi associati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cese del dottor claudio saracino e facer condividi con amici parenti perché può essere quel quid che gli cambia la vita come è successo a me tantissimi anni fa io ero io sono un ex timido ma veramente timido ragazzi e visita anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cs del dottor claudio saracino e al prossimo video un bacio grazie a tutti